Pie time, sign, presenti Giovanni c'è l'ho di Officine Culinario e adesso abbiamo finito con Marco Stampone di Gusto Grazi Devo dire che dai risultati che possiamo vedere è stata una grande soddisfazione L'altro anno eravamo a Anzio, precedentemente a Fiumicino, al villaggio Doniazzi L'anno prossimo non lo so ancora, però ecco ci piace aggregare le migliori località laziali con le migliori eccellenze vinicole laziali e anche gastronomiche Vi aspettiamo!